Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 in entrambe le direzioni, tramonte San Savino e Chiusi, traffico ralentato per Grandine, si raccomanda alla massima prudenza. In direzione Bologna tra il BV1 con Planare Nord e il BV1 variante, ralentamenti per traffico intenso. Sul raccordo Sina Firenze possibili disagi per la chiusura dello svincolo Poggi Bonsi Nord provenendo da Siena. Restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni con doppio senso di circolazione in carreggiata ovest, tra Poggi Bonsi e San Donato in Poggio. Sul raccordo Siena-Bettole per lavori fino al 26 settembre è chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. Nella strada stata l'Aurelia in direzione a Livorno, scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano con chiusura dello svincolo Monte Pescali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!